Gli studi indicano che uno sconcertante 78% del tempo dei genitori viene impiegato a ripetere le istruzioni basi. Oh mio Dio, che è? Devi scaricare quando vai in bagno, non è difficile. Abbiamo trovato qualcun altro che dia una mano. Cady, devi scaricare. Lavati le mani. Tira su le maniche. Bravissimo. Era il compleanno della mia amica... Megan è un'eccellente ascoltatrice. Gli ha detto che al tredicesimo piano c'erano i fantasmi. E ha anche alcune storie tutte sue. Se così fosse, potrebbe essere. E se così dovesse essere, sarebbe. Ma poiché non è, non sarà. È logico. Disse tu, Lidol Dio. Non esaurirà mai le idee per tenere occupati i vostri figli e non esaurirà mai la pazienza. Ed, sul serio, devi scaricare. Se Megan è in casa, si occuperà delle piccole cose. Così potrete dedicare più tempo a quelle importanti.